Sono quasi 400.000 i bambini che ogni anno finiscono al pronto soccorso per incidenti domestici con una prevalenza dei maschietti sulle femminucce. E' quanto evidenziano i dati del Sistema Informativo Nazionale sugli incidenti in ambiente di civile e abitazione dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno preso in esame i referti di un campione di oltre 20 centri di pronto soccorso ospedalieri distribuiti su tutto il territorio nazionale. Nella fascia d'età presa in considerazione quella fra 0 e 14 anni, il primo motivo di ingresso al pronto soccorso sono le cadute, responsabili del 53% degli incidenti domestici. Ma a seguire ci sono altri fattori come gli urti, le ferite da taglio e le ustioni. La stanza più ricca di insidie per i piccoli si dimostra essere la camera da letto seguita dalla cucina e dal soggiorno o sala da pranzo. Tra gli oggetti in cima alla lista dei pericoli c'è invece il letto seguito dalle poltroni, divani, le sedie e le scale. Secondo i pediatri la parola d'ordine in questi casi è prevenzione e la prima regola, soprattutto quando i bimbi sono molto piccoli, è non lasciarli mai soli.